Siamo qui tutti quanti insieme perché sta per partire in questo momento di... siamo all'ultima cena Io credo che si possa dire 1, 2, 3, 4, sigla! Forse devo dire anche 5 Non credo che dovete andare avanti e spaccarvi i maroni con il cabaret tutta la sera A un certo punto ci fermeremo, però stasera ci sono anche molti colleghi Già gli ho visto qualcuno, c'è Alessandro De Santis, c'è Alessandra Ierse che è là dietro che poi chiameremo sul palco C'è Franco Neri che pensate è venuto apposta da Torino Ci sono dei compleanni, io partirei con i compleanni Io so, c'è il compleanno No, lo so, eccola Sapete, noi crediamo nelle sorprese E questa si è alzata, ma adesso, dopo Eccola Lella che compie gli anni Che gnocca la Lella? No, è il compleanno del panettiere Ma oggi è il tuo compleanno Posso dirlo forte che la Lella è una gnocca? Sìììììì! Ma se io avessi saputo che stasera era il compleanno di una gnocca come la Lella Se parli ancora ti do un pugno, Lella Comunque, tornando alla mia giornata tipo Poi alle cinque in punto partenza con il camion verso Milano. Allora! Ho un pugno colare in corsa, figo. Parto, andiamo a Milano, carico su quattro miei colleghi il ginolpino e il tinorrino. Alle sette in punto arriva il cantiere a Milano. Il ginolpino e il tinorrino scendono e fanno un lavoro più faticoso, più pesante. Si mettono in mezzo alla strada e fermano il traffico. Invece io scendo dal camion, scarico i dodici quintali di forati, scarico i dieci quintali di cemento e ricarico i dodici quintali di forati perché serviva solo il cemento a spio. Bisogna prenotare una visita e va a prenotare all'Inps. All'Inps c'era un sacco di gente forte, proprio il giorno di sciopero sono capatata. Invece erano soltanto tutti gli impiegati che facevano pausa a caffè tutti insieme, 6 mila. Però sono stati onesti con mia madre. Gli hanno detto, guardi mi dispiace, gli hanno offerto il caffè, un bacco di cracker, ci hanno dato. E poi gli ha detto, queste visite si prenotano soltanto via web. Dopo 3 minuti mia madre mi chiama e fa, senti, cerca sulla guida dove cazzo è via web che a Torino non riesco a trovarlo. Abbiamo iniziato il 23 e abbiamo finito il 28. Un giorno di pausa per il 29 e il 30 ci siamo preparati per il capodanno. Eccola qui la mano, uno schermo insormontabile, al di sotto del quale io non so nulla di ciò che accade. Infatti con la mia mano sinistra vado a formulare un numero che va da 0,8 miliardi. Voi potete vederlo, io non posso neanche immaginarlo. Adesso io nasconderò questa mano sulla mia schiena e cercherò di far fare alla mia vista la rotazione del globo terrestre andando a leggere precisamente il significato numerico trascritto dalla mia mano. Guarda la mano, è un numero dispari? Se guardi le chiappe risulta pari, Paolino. Genova, da latino, Iannua, che significa ma hai prenotato? E invece io in questo periodo vado a Milano. Milano per non genovesi è fantastica perché a Milano ci sono le fighe. A Genova la fighe è vietata, l'avete saputo? Sì, le fighe spaziali, voglio dire, anche a Genova ci sono delle belle ragazze, ma le fighe spaziali, quelle proprio che sono fighe di professione, a Genova non ci sono, a Milano sì. Se vai a Moscova e esci e le vedi, le modelle, quelle che arrivano, sembrano delle giraffe, camminano con questi sguardi celesti. Già se la tiravano negli anni 80 sembrava ce l'avessero solo loro, ora sono andate oltre. Non ce l'hanno neanche più loro. Ce l'hanno nel trolley. C'hanno delle fighe talmente belle che non possono portarli addosso. C'hanno un altro. E c'hanno fuori qua, mi piace stare qua con noi. Pensavo di salire sul palco, ma siccome c'ho il sindrome Brunetta non ci arrivavo, perché sai che anch'io sono in basso al punto che quando entro nel bar i miei amici mi dicono tutti in mezza sega, rispondo finisci, questo è un trucco che ci abbiamo grosso. E Brunetta una volta si è incazzato perché una volta Brunetta ha detto, fino adesso mi è venuta in mente di stare incazzata qua, perché ha detto io fino a 18 anni non sapevo farmi il letto, ha detto per forza dormivi sul cuscino. E si è incazzato. Quindi salutiamo il nostro buon Chiodaloni. Fammi passare, cazzo! Togliti! Ti strappo la lingua e te l'attacco sulla schiena così ti vecchi il culo da solo, lo dico! Vieno! Poi a quelli che mi hanno chiesto, ma perché ci sono due tavoli sul palco? È la settimana del reido a Milano, volevamo fare un piccolo omaggio di eleganza, anche noi al Salone del Mobile e portare la nostra proposta. Se vuoi ti faccio ancora magia sui tavoli. Puoi fare una magia sui tavoli? Magia assolutamente. Va benissimo, che magia mi puoi fare? Secondo me sono tanti, ne faccio sparire uno. Attenzione, formula magica, sim. Et voilà, il tavolo sopra è sparito. Questa battuta che ha appena fatto ci dà due segnali che la gente comincia ad essere stanca e ci fa fare una riflessione, che quando serve una pistola non c'è mai. No, ci tenevo molto ad essere qui anche se non sono un po' giudicili perché è un periodo un po' così, mi ha messo un po' capò mia moglie con dei discorsi del cazzo, delle idee pazze delle donne, mi ha messo a dieta. Discussioni in famiglia, io non sono mai stato magro. Ho già perso 4 kg litigate in famiglia con mia moglie e mia madre, si sentono al telefono, ho fatto perdere 4 kg a suo figlio, mia mamma non mi ha mai visto magro, piange, lo stai spingendo all'anoressia. Intanto la domenica si sta avvicinando e l'aria di festa si sente anche nelle piccole scelte. Non trovo niente da mettermi, non cagatemi il cazzo, dai. Allora, io non so che carta tu abbia scelto, però se questa carta è quella che tu hai scelto, io vinco 50 euro, se non è, le vinti tu. Dovinti io. Perché è sbagliata, non è questa che c'è. Ma quando i panettieri maghi sbagliano, hanno una polizza, vedi? Il matto è stato mescolato bene prima dell'effetto. Sì. La carta è stata scelta in modo libero e casuale. Sì. Prima, nel terzo e decisivo taglio, la prima carta risultata essere quella giusta? No. In questo caso, aprite la polizza e mostrate come a tutti l'accenterno possa essere. C'è Rocco Sifredi che va a giocare al gioco degli affari tuoi. A un certo punto il presentatore gli fa. Senta Rocco, fossi lei cambierei il pacco. La Ferrari col buco, De Biasi carica il toro. Jovetic non si tocca, Moratti ne ha voglia, Barcellona con la manita, Il triste primato di Del Piero è Tre Seghè. La canzone multilingue fa così, versione italiana. Mare, morto, morto, mare, è un muro, mi ha detto se vuoi ti curo, ma è così che fa il mare. Grazie. La versione cinese è molto più dolorosa e fa così. Male, molto, 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 male. c'è un curriculum che neanche vi immaginate, fatto per quattro anni lo spogliarellista, alla radio, radio tanga, c'era solo un filo di frequenza. Terzo, signor giudice, il mio cliente, che sono io. Non poteva mantenere al mezzo di scrivere, perché signor giudice, il mio cliente non sa scrivere, è analfabeta. Sono analfabeta e se volete ve lo metto. Ma, zitto! E quanto? Quarto? Per quella sera abbiamo un anime. Ah, sì? Come di niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Il mio cliente, che sono io, essendo un autotrasportatore, si trovava alla guida del suo autometro. Ma quell'autotrasportatore, un tir me lo stavo fottendo. Zitto! Sono mafioso, scuso! E abbiamo anche le prove. Questa è la notifica dell'autovelox, che accerta il pappagallo alla guida del tir. Che non c'ho manco la patente. Ma la volevo prendere? La volevo comprare, ma quello della scuola guida voleva 3.000 euro in nero, stufetuso, lato, zitto, 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 come mai ieri non sei venuto a lavorare? Dopo che hanno cremato mia suoccia. Ma madonna santa, mi dispiace, è come è morto. Durante la cremazione. Comunque la mia moglie la sto cercando, perché neanche Piero, sono tre mesi che è uscita, che diceva andava a coprare sigarette, e non è ancora tornata a casa. E' cominciato un po' preoccupato, che dici? Ma non so, non perché sono passati tre mesi, eh? E lei non fuma. Però io amo mia moglie, eh? L'ho conosciuta dal palettiere, io ero. L'ho fatta ridere per due ore, e quando mi ha visto nudo, ha pianto per mezz'ora. Grazie a tutti, con la vostra presenza, vi avete permesso di fare, ancora nella nostra venerante età, una cosa che ci piaceva già da bambini, che è gridare, esportarci e dire le parolacce. Questa cosa non ha prezzo. Grazie, buona serata, qui ci sono le brioni. Stefano Filanoli, 15 anni di palettiere, ma molti di più in paliera.